Leonardo Di Caprio Leonardo Di Caprio dalla povertà ad Hollywood, come mi sono salvato Considerato a tutti gli effetti uno dei sex symbol più desiderati di Hollywood, oltre che uno degli attori più talentuosi degli ultimi anni, Leonardo Di Caprio non è sempre stato un vivo La sua infanzia infatti è stata segnata dalla povertà e da situazioni ben poco semplici da affrontare per un ragazzo, ma il bel Leonardo ha saputo cogliere tutte le opportunità, costruendo un futuro davvero scintillante Leonardo Di Caprio e il desiderio del successo, l'importanza della determinazione Nato nel 1974 ad Hollywood, l'attore ha più volte raccontato pubblicamente il suo rapporto con le droghe. Nel suo quartiere d'origine, in qualunque momento della giornata, c'era un esercito di spacciatori sempre pronto a vendere sostanze Leonardo Di Caprio non ha mai consumato nessuna droga, anzi, ha fatto di tutto per tenersi lontano da quel tipo di ambiente, desideroso di intraprendere una vita diversa, lontana da qualsiasi forma di dipendenza Dopo la separazione dei suoi genitori, la star di Hollywood si è trasferito con la madre in una casa nella periferia di Los Angeles e ciò che gli ha permesso di non cedere alle tentazioni di quegli anni è stato un sogno, quello di recitare Così Di Caprio ha iniziato a partecipare a tutti i provini possibili fino a quando non è stato selezionato per una campagna pubblicitaria Da quel momento il giovane ragazzo di periferia si è trasformato in uno dei giovani attori più promettenti di Hollywood, capace di conquistare tutti con la sua bellezza e la sua intensità Il desiderio di emergere e la determinazione sono stati gli ingredienti segreti del suo riscatto, rendendolo un uomo ancora più ricco di valori Oggi l'attore infatti non è solo uno degli uomini più facoltosi del mondo, ma anche un attivista sempre pronto a sostenere i progetti di difesa dell'ambiente Leonardo e la sua vita da star La sua beauty routine gli costa quasi 25 mila dollari al mese, oggi il bel Leonardo può permettersi qualsiasi lusso e ha deciso di soddisfare le sue piccole e grandi passioni, come l'amore per l'arte contemporanea e per l'ambiente Sempre circondato da bellissime donne, che hanno dimostrato di fare follie per lui, l'attore non ha ancora trovato la sua anima gemella, ma non per questo considera la sua vita meno piena Il sex symbol di Hollywood infatti è un single incallito, con una quotidianità ricca di impegni e di obiettivi da realizzare, la presenza di una donna nella sua vita non è necessaria, a meno che questa persona non sia davvero la sua metà Nonostante abbia più volte manifestato il desiderio di non sposarsi, DiCaprio non ha nemmeno escluso che questa possibilità possa avverarsi, ma solo nel caso in cui trovi la persona che condivida le sue passioni, in particolare quella per l'ambiente Sono molte le ex colleghe attrici e le top model che hanno provato a conquistare il cuore del grande divo, ma nessuna ci è mai riuscita fino in fondo, l'unico vero punto di riferimento femminile per Leonardo è la sua amica di sempre, la straordinaria Kate Wiesel Che la loro amicizia possa un giorno trasformarsi in un lieto fine? Sono in molti a sperarlo Che la loro amicizia possa un giorno trasformarsi in un'unico vero